Lunedì 18 gennaio Giuseppe Conte chiede la fiducia in Parlamento. Il giorno successivo al Senato. Il Premier ha scelto di andare a vedere le carte dopo che Matteo Renzi aveva ritirato due ministri dall'esecutivo. Nella giornata di questo giovedì si era recato al Quirinale. Ha poi scelto la strada politicamente più rischiosa. Tuttavia al Senato i numeri sono contro di lui. Il primo voto sullo scostamento di bilancio, che Italia Viva ha comunque promesso di votare con qualunque esecutivo, sarà invece mercoledì 20 alle 16, sempre a Montecitorio. Davanti alle intemperanze di ex alleati riottosi come Matteo Renzi, Conte aveva comunque voluto rassicurare il presidente Sergio Mattarella con la volontà di parlamentarizzare la crisi. Ma la matematica non sembra per ora dalla parte del Premier. Sono in corso manovre, soprattutto a Palazzo Madama, dove i 18 senatori di Italia Viva erano determinanti per mettere in piedi l'operazione che stabilizzi la maggioranza. Sia il PD che il Movimento 5 Stelle hanno chiuso le porte a Matteo Renzi per salvare la legislatura. Bisogna però, secondo loro, blindare il Premier, cercando quelle che definiscono forze responsabili, i cosiddetti costruttori. Il centrodestra è compatto nel chiedere che Conte vada a riferire in aula, auspicando un ritorno alle elezioni in caso il Premier non trovasse i numeri. Una eventualità che il Colle considera ultima razio.